Diamo il benvenuto a Fabio Bertolotti, direttore Assogomma. Fabio, grazie di essere in studio con noi qui a Safe Drive. Parliamo indubbiamente con te di gomme. È un inverno che finora è stato relativamente clemente, ma mai abbassare alla guardia. Certo, l'inverno quest'anno non è stato tra i più rigidi. Di nevicate ce ne sono state assai poche, però la temperatura è comunque la temperatura invernale ed è quella che fa la differenza tra un equipaggiamento estivo e un equipaggiamento invernale. Non dobbiamo pensare più alla neve, anche se ovviamente sulla neve il pneumatico invernale offre le sue migliori performance, per esempio riducendo lo spazio di frenata del 50% rispetto ad un pneumatico estivo, ma anche in condizioni di assenza di neve totale e semplicemente subbagnato, il pneumatico invernale rispetto ad un estivo, con temperature fredde, riduce lo spazio di frenata fino a un 15%, che è una percentuale importante, è la differenza tra un incidente sì e un incidente no. Cos'è che identifica un pneumatico invernale? Si è parlato di invernale, di all season, di estivo. Qual è il bollino alla certificazione proprio per dividere questi due prodotti? Giuridicamente un pneumatico invernale si distingue con una scritta M più S che è sul fianco del pneumatico. Da un punto di vista visivo lo si distingue dal tassello, quindi rispetto ad un battistrada, il tassello del pneumatico non è pieno, nel caso di specie è un estivo, ma è lamellato. Queste lamelle consentono unitamente alla termicità della mescola, cioè alla tipologia della mescolanza, di reagire in maniera particolare quando fa freddo. Senti, a livello sempre giuridico, normativo, un po' il problema che ha attanagliato tutta la nostra penisola. L'anno scorso ce n'erano tante, proprio qui a Milano, da dove registriamo, c'era stato il problema delle varie ordinanze. Com'è la situazione di questo inverno? Le ordinanze l'anno scorso, in tutto l'inverno 2010-2011, sono state 84, quindi un numero importante, ma quest'anno siamo già arrivati a contarne 140 e senza nessuna precipitazione nevosa, quindi è probabile che laddove ci fossero delle precipitazioni ne verranno delle altre. Quindi c'è una quantità straordinaria ormai di questi provvedimenti che interessano non più solo le zone montane, le zone del nord, ma interessano l'intera penisola. Dove è corretto mettere i pneumatici invernali? Se su un solo asse, su entrambi, davanti, dietro? Cosa dice anche la legge e dai un tuo consiglio personale? Allora, da un punto di vista tecnico, la configurazione ottimale è sempre quattro gomme che siano estive piuttosto che invernali, dello stesso tipo, della stessa marca, della stessa misura, dello stesso indice di carico, cioè esattamente identiche. Vi è la possibilità per legge di montare gomme sullo stesso asse, devono essere identiche, ma possono essere l'asse anteriore diverso dall'asse posteriore, cioè per dire è possibile montare sull'asse davanti una marca e sull'asse posteriore un'altra marca. Questo è tecnicamente un'eresia, da un punto di vista invece giuridico è un qualcosa di consentito. E tra l'altro, sottolineo anch'io, aggiungo a quello che diceva Fabio, attenzione anche alle quattro vuote motrici, perché non è detto che io, proprietario di una vettura a quattro vuote motrici, sia esente da questi problemi di trazione e di stabilità, spesso, volentieri, anzi, queste vetture sono molto pesanti, perciò hanno degli ulteriori problemi. Magari si arrampicano meglio, però quando si deve fermare o si affronta una curva... Questo è verissimo, anzi, proprio vetture molto pesanti, come questi SUV che ormai imperversano, che sono con pesi superiori alle due tonnellate, sicuramente possono superare un ostacolo in salita, ma poi nulla può la trazione e la capacità nel momento in cui uno deve scendere. Gomme larghe, estive, un mezzo molto pesante, è proprio la impossibilità di controllo. Senti, la novità di quest'anno, come direzione di Assogomma, avete lanciato questo bollino, questo adesivo che identifica chi dispone di pneumatici invernali. Questo adesivo vuole essere un aiuto ai controlli da parte della Polizia Stradale e un aiuto anche a noi automobilisti, cioè il senso è molto semplice, in una situazione in cui c'è neve a terra, c'è un traffico già congestionato, ci deve essere un lasciapassare veloce, di facile identificazione, in maniera tale che chi è già munito di pneumatici invernali possa passare liberamente, mentre i controlli si devono soffermare su chi invece non ha delle gomme adatte oppure necessita di aprire il bagagliaio e vedere se ha delle catene. Volevo ringraziarti e con questo è tutto, speriamo di proseguire la nostra stagione invernale senza problemi. Grazie a tutti.